Mi sono dovuto esporre in prima persona perché chi gestisce il Palace ha fatto un gran pasticcio e invece di risolvere ha complicato le cose in questi giorni. Quindi ho dovuto prendere in mano la questione. Ovviamente ho chiesto al presidente dell'ASPES di cambiare immediatamente la direzione del Palace Sport perché non è possibile che non succeda nulla dopo questo pasticcio che è stato creato. Grazie a un contatto diretto che ho avuto questa mattina con la responsabile di Tecnocasa, la dottoressa Beretta, abbiamo trovato un accordo per cui la società di Tecnocasa comprimerà i lavori durante la notte e quindi noi giovedì giocheremo la gara 3 a Pesaro e durante la notte inizieranno i lavori per l'organizzazione della convention che si svolgerà sabato. Quindi come avevamo detto gara 3 sarà a Pesaro e quindi i pesaresi potranno finalmente vedere nella città una gara dei playoff dopo 10 anni e non si perde la convention di Tecnocasa e quindi si avvicinano contenziosi e anche un impatto negativo sul turismo. Quindi siamo molto contenti per questo accordo. Rimane un'incognita su gara 4 perché l'eventuale gara 4 si dovrebbe giocare sabato. Ho chiesto ufficialmente a Bologna di spostare la partita domenica. Se Bologna ci darà l'ok riusciremo a giocare domenica sera l'eventuale quarta partita. Altrimenti la quarta partita c'è la probabilità che si debba giocare fuori. Speriamo che Bologna venga incontro alle nostre esigenze e dal resto la Virtus in queste ore ha collaborato moltissimo fino anche a metterci a disposizione quasi gratuitamente il Palasport di Bologna per ospitare la convention della Tecnocasa. Purtroppo la Tecnocasa questa mediazione non l'ha accettata e quindi abbiamo trovato quest'altra soluzione. Bene, avanti, però come capite sono anche molto infastidito perché una vicenda normale che capita nella gestione di un Palasport è stata gestita davvero con i piedi e il fatto che sia dovuto intervenire il Sindaco chiamando direttamente la responsabile dell'azienda è molto anomalo però almeno abbiamo risolto la questione all'80%. Se ci dovesse essere gara 4 incrociamo le dita perché vorrebbe dire che siamo sul 2-1 dopo le prime tre partite se Bologna ci verrà incontro la giocheremo a Pesaro anche quella altrimenti saremo costretti a trovare un palazzetto vicino e ho già mandato alla VL di prenotare il palazzetto vicino che eventualmente ci dovesse servire lo sceglierà la VL, di certo sta a loro scegliere. Speriamo che non ci sia bisogno, se io confido che Bologna accoglierà il nostro appello significherebbe giocare due partite, la quarta e la quinta nel giro di 24 ore però come la giocano loro nel giro di 24 ore la giochiamo noi quindi se sono stanchi loro siamo stanchi noi è un problema secondo me facilmente gestibile però la Lega mi ha detto che è d'accordo se le due società sono d'accordo quindi se Bologna ci darà l'ok sarà possibile farlo confido in questo anche perché fino ad oggi davvero la Virtus è stata splendida nei rapporti con Pesaro e anche con il Sindaco della città. Grazie a tutti